buongiorno ragazze che cosa ci possiamo fare con tutti i nostri rimasugli di cotone io ci farei una tendina per dire con tutti questi fiori bellissimi fatti appunto con tutti i rimasugli di cotone e invece di cucire che uno diventa stupido io ho deciso di unirli con degli anellini di ferro anche poi vi farò vedere allora ovviamente che cosa ci serve per fare questi splendidi fiorilloni ci serve i vostri rimasugli di cotone l'uncinetto ovviamente adeguato al filato io direi che sto usando il numero 3 l'uncinetto per il fiocco i miei rimasugli di fiocco e iniziamo a vedere come si fa il fiore allora per fare il fiore si monta l'anello magico con dentro 12 maglie alte ovviamente la prima maglia alta la faremo con 3 catenelle quindi 3 catenelle 1 2 e 3 e all'interno 11 maglie alte quindi in totale sono 12 dunque il primo e il secondo giro li facciamo dello stesso colore andiamo a stringere il cerchio magico onde evitare che questo cerchio magico a un certo punto si apre lo blocchiamo o ve lo bloccate con l'acqua insomma ma anche no oppure inseriamo il l'uncinetto nella terza maglia scusate nella terza catenella per chiudere la maglia alta prendiamo tutti e due i fili anche quello del del cerchietto magico e chiudiamo con un punto bassissimo a questo punto il filo del cerchio magico è bloccato ce lo portiamo avanti per qualche giro allora secondo per qualche maglia dico secondo giro andiamo a fare una maglia alte 2 catenelle per ogni punto quindi la prima sarà di tre ma tre catenelle 2 e 2 catenelle di spazio andiamo nella maglia alta successiva senza saltare nessun punto e facciamo una maglia alta di nuovo due catenelle una maglia alta di nuovo due catenelle una maglia alta fino alla fine del giro ok quando siamo arrivati a chiusura facciamo le ultime due catenelle e andiamo a fare la maglia bassissima nella terza catenella iniziale va bene a questo punto tagliamo per il filo cambiamo colore facciamo il cappietto di sicurezza e stringiamo allora quello del filo ma del cerchio magico lo possiamo già tagliare tanto è bloccato per quanto riguarda il secondo giro ci dobbiamo inserire in ognuno di questi spazi e lavorare in ognuno di questi spazi tre maglie alte questo qua niente di che quindi il discorso è questo o fate le tre catenelle iniziali per fare la prima maglia alta o altrimenti fate la maglia alta in questo modo cappietto di sicurezza una gettata e bloccate i fili con il dito vi inserite all'interno del primo archetto così tirate fuori il filo chiudete i primi due anelli e chiudete i secondi due anelli e abbiamo formato la prima maglia alta ok a questo punto all'interno di ogni archetto ne facciamo tre quindi così portatevi dietro il filo viola in modo da poterlo bloccare e per bloccarlo meglio se ci avete pazienza fatelo girare un paio di volte all'interno dello spazio così bene in modo che così non dovete poi cucire tutti i fili in giro per il mondo quindi continuiamo a fare tre maglie alte per ogni spazio senza nessuna catenella di divisione e andiamo avanti in questo modo fino alla fine del giro arrivati ovviamente alla fine del giro facciamo il punto bassissimo nel primo cappietto che ci abbiamo qua e chiudiamo il giro tagliamo il filo e cambiamo colore dobbiamo fare gli ultimi due giri è un lavoretto da cinque giri totali quindi cappietto di sicurezza sempre tirare il viola ce lo possiamo anche togliere dalle scatole tanto è bloccato prendiamo il terzo colore colori a caso ovviamente se volete o per i programmate come più vi piace allora adesso dobbiamo andare a fare questo giro e di questo giro qui che è composto da due giri quindi facciamo o la maglia alta delle tre catenelle o le maglie alte come vi ho detto prima dobbiamo partire dobbiamo partire dalla prima maglia alta ovviamente del giro così da questa maglia alta cioè dalla prima maglia alta del giro precedente ok quindi facciamo una maglia alta e un'altra maglia alta nello stesso punto quindi due maglie alte in una poi nella maglia successiva andiamo a fare di nuovo due maglie alte attenzione che queste sono 3 1 2 3 quindi dovete lavorare qua quindi abbiamo fatto due maglie alte in ogni maglia nelle prime due praticamente sono diventate 4 adesso facciamo 4 catenelle 1 2 3 4 saltiamo una maglia e ripetiamo quello che abbiamo fatto prima quindi due maglie alte nella prima maglia alta scusate e due maglie alte nella seconda maglia alta vedete io mi sono dimenticata di portarmi dietro il filo giallo per bloccarlo ma vabbè lo farò con lago stavolta 4 catenelle 1 2 3 e 4 saltiamo una maglia di base nella maglia successiva due maglie alte nella maglia successiva due maglie alte procediamo così per tutto il giro quindi 4 catenelle saltiamo una maglia di base due maglie alte nella prima due maglie alte nella seconda finiamo il giro allora finito l'ultimo gruppetto facciamo le 4 catenelle 1 2 3 e 4 e facciamo la maglia bassissima nella prima maglia del gruppetto iniziale ok perfetto a questo punto dobbiamo andare a fare una maglia bassa 4 5 6 e 7 saltiamo direttamente con l'uncinetto all'interno delle 4 maglie alte quindi alla metà qua facciamo una maglia bassa facciamo una maglia bassa riprendiamo a fare le 7 maglie alte nell'archetto 1 2 3 4 5 6 e 7 di nuovo la maglia bassa all'interno delle 4 maglie alte alla metà e andiamo avanti in questo modo allora ho fatto l'ultima maglia alta dei 7 e mi chiudo con la una maglia bassissima qui nella maglia bassa che abbiamo fatto in precedenza il fiore è praticamente finito ok eccolo qua facile 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 da fare in qualsiasi punto vi trovate nella vostra vita io li faccio sull'autobus quando porto Giuliani insomma veramente molto carino momento carino eh allora adesso mi fisso un attimino questi fili ci vediamo un attimo fra due secondi allora finito il fiore fatte 150 milioni e mezzo di mattonelle che noi ci divertiamo tanto a fare la rottura di balle poi alla fine è come le cuciambo queste mattonelle ecco allora i metodi sono diversi o con l'ago o mano mano che lavorate e vi agganciate con la maglia e poi riprendete o con gli anellini come ci piace vincere facile come deciso di fare io allora come funziona l'assemblaggio di questi fiori puntata numero uno primo dobbiamo unire le strisce per la lunghezza della tendina perché io adesso sto lavorando una tendina poi voi facevate quello che vi pare io vi spiego la tendina quindi dobbiamo montare le strisce ok lunghe 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 allora come 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 le montiamo queste strisce prendiamo un petalo e ne prendiamo un altro quindi dobbiamo agganciare due petali dal momento che sono rotondi non ci frega da dove partiamo e però quando cominciate ad agganciarli ovviamente dovete agganciare i due petali paralleli perché altrimenti se no viene storta e quindi abbiamo uno due tre quattro petali di qua uno due tre quattro petali di là chiaro fino a qui benissimo allora che ci serve ci servono questi anellini di plastica microbi piccoletti dove state le camera ecco li trovate dal cinese con un euro una bustina ce ne stanno un miliardo e mezzo oppure nei negozi dove vendono cose per la bigiotteria due pinze due pure queste un euro benissimo allora prendiamo un anelletto con una pinza dove sta ecco qua questi anelletti hanno un'apertura a un certo da qualche parte la dobbiamo cercare eccola si vede no mettiamo a fuoco vabbè c'è un'apertura ok prendiamo la pinzetta da un lato la pinzetta dall'altro lato dell'apertura e facciamo questo lavoro qua quindi apriamo l'anello perché se vede sfocato che palpebre ecco vabbè apriamo l'anello giusto abbiamo aperto l'anello prendiamo il nostro fiore prendiamo l'altro fiore lo mettiamo dritto su dritto in questo modo e andiamo ad agganciare la quarta maglia alta perché sono sette giusto quindi 1 2 3 4 la quarta maglia alta di qua mezzo un paio dell'anellino la quarta maglia alta di qua dove stai? ecco qua e ci inseriamo l'anellino aperto ci vuole un po' di pazienza e la quarta maglia di là 1 2 3 e 4 e ci inseriamo l'anellino aperto ok a questo punto esattamente come l'abbiamo aperto lo andiamo a richiudere quindi non fate il movimento così fate in questo modo perché così l'anellino si richiude perfettamente senza troppi problemi io sono convinta che è tutto sfocato però non so il motivo vabbè adesso che abbiamo attaccato il primo anellino attacchiamo anche il secondo sperando che la cosa venga un po' più decente decente da farvi vedere quindi prendiamo l'anello da un lato con una pinza l'anello da un lato da con l'altra pinza e lo apriamo in questo modo ok non così per così contiamo 5 1 2 3 4 maglie di qua partite da davanti o partite da dietro è uguale ok 1 2 3 4 maglie di qua riprendiamo la pinza riprendiamo l'anellino e richiudiamo così in modo che l'apertura dell'anellino non si preoccupa niente bene e abbiamo attaccato vedete la tendina ora per quanto riguarda dopo che abbiamo fatto la prima striscia dobbiamo ovviamente attaccare le altre strisce giusto? quindi abbiamo questi questi vanno attaccati 4 per petalo cioè per petalo dato che non si deve saltare nessun petalo quindi 1 e 2 3 non è difficile da ragionarci se andate a vedere perché non dovete saltare niente quindi dai petali che abbiamo già attaccato dobbiamo attaccare questo con uno nuovo questo con uno nuovo di nuovo questo con uno nuovo e questo con uno nuovo andando avanti con il lavoro io non me lo faccio attaccare perché non mi serve da attaccarle io prima devo fare l'arica lunga andando avanti con il lavoro ci abbiamo un altro petalo ed è la stessa identica procedura quindi 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 giusto? capito? questo con questo questo con questo questo con questo e questo con questo va bene diciamo che il video è finito in pratica quindi io spero di essere stata chiara con le spiegazioni come spero sempre ok? quindi vediamolo da un altro lato questi li abbiamo chiusi dobbiamo chiudere questo con uno nuovo questo con uno nuovo questi li abbiamo chiusi quindi i petali devono essere uniti 4 o 4 perché questo qui poi ci serve quello dopo mi seguite? ogni 4 petali vanno uniti bellissimo io l'adoro sta cosa bene l'idea di unirli con gli anellini e non di fare le cuciture mi è venuta dal fatto che se andiamo a cucire per carità di Dio a chi lo vuole fare per carità cioè se andiamo a lavorare insieme alla fiore ogni fiore che facciamo lo lavoriamo insieme a un certo punto per chi lavora che va in giro si ritrova a dove si porta dietro tutta la tenda invece così uno ha fai fiorellini quando e dove vuole poi oltretutto in questo modo potete decidere tranquillamente i colori come vanno posizionati dopo che avete fatto tutti i quanti i fiori va bene? ragazzi io vi saluto vi ringrazio spero che vi sia stato utile perché io adoro questo fiore veramente ciao 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 grazie a tutti